Cari amici, fin dai miei primi video sul coronavirus ho parlato di come il governo cinese stesse censurando la gravità della situazione, la gravità dell'epidemia, numero di contagiati e numero di morti compreso. Fin dai miei primi video ho parlato di almeno 100.000 contagiati a Wuhan e per questo ovviamente sono stato attaccato, tacciato di complottismo, di voler approfittare della situazione, di voler dare delle notizie sensazionalistiche, se non addirittura di voler allarmare le persone, di voler creare il panico e poi dall'altra parte invece c'è chi mi ha accusato di seguire la propaganda, di essere cascato nella propaganda come se il coronavirus non esistesse e fosse tutta una montatura. Poi ovviamente c'è chi si lamenta che dice basta, basta parlare del coronavirus, come se il problema non ci riguardasse invece purtroppo il problema ci riguarda, ci riguarda e come. Ma tornando ai dati falsi forniti dalla Cina, oggi finalmente si è svegliato Tajani, infatti Tajani al Parlamento europeo ha dichiarato che la Cina falsifica i dati, nasconde i dati, ha dichiarato che la Cina con il coronavirus sta facendo la stessa cosa che ha fatto a suo tempo la Russia con Chernobyl. Nascondere le tragedie significa creare danni enormi ai propri cittadini. Pensate che perfino il virologo Burioni ha detto che la Cina falsifica i dati. Certo, Burioni si riferisce a una piccola parte di dati e questo fa anche un po' capire che evidentemente neanche Burioni, oltre a Burioni tante persone, non si rendono conto, magari anche esperti, non si rendono conto di cosa esattamente stia nascondendo la Cina. Comunque nel merito Burioni dice che il calo dei contagiati che si era registrato negli ultimi giorni, non oggi, perché oggi al contrario c'è stato un aumento incredibile, dopo vedremo perché, comunque il calo degli scorsi giorni secondo Burioni sarebbe dovuto ai seguenti motivi. Derivi da una sconcertante decisione della Cina, considerare casi confermati solo quelli che risultano positivi al test e hanno sintomi. In altre parole, chi ha il test positivo ma non ha sintomi, non rientra nel conto. Burioni si riferisce a questo tweet. Ecco questo è il tweet di Alex Lam che riporta un documento della Commissione Nazionale Cinese per la Salute. Mentre un imprenditore italiano con aziende a Wuhan ha parlato di almeno 80.000 contagiati solo a Wuhan. Il 97% dei contagiati resta nella provincia di Wuhan, anche se il numero reale è molto più grande di quello che ci viene comunicato. La verità è che siamo intorno agli 80.000 contagiati. Ci sono anche delle difficoltà tecniche che impediscono di fare il conto correttamente. Difficile fare previsioni su quanto durerà ancora l'emergenza. Io dico che andremo avanti almeno fino all'estate, sempre se non sopraggiungono brutte notizie. E poi ancora Walter Pasini, presidente della Società Nazionale di Medicina del Turismo. I numeri dell'emergenza in Cina sono probabilmente di gran lunga superiori a quelli denunciati. La preoccupazione riguarda anche il continente africano, dove sono sbarcati tantissimi lavoratori cinesi. Ci chiediamo come riusciranno a isolare i malati, mettere in quarantena i sospetti e tracciare i contatti. Insomma, anche se con gravissimo ritardo, sembra che qualcuno finalmente stia iniziando a rendersi conto che non parliamo di una sciocchezza, ma purtroppo parliamo di una tragica realtà. E d'altronde il capo del Dipartimento di Medicina di Hong Kong ha dichiarato. Il 60-80% della popolazione mondiale sarà infettato dal coronavirus. Un numero tremendamente grande. Il bilancio delle vittime sarà enorme. Anche perché un conto è la capacità di contenimento dell'epidemia in Europa. Altro discorso investe le condizioni di paesi asiatici come la Thailandia, visitata da milioni di turisti e da altri paesi asiatici come Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Laos, Cambogia. Poi, fra le altre cose, nei giorni scorsi è saltato fuori uno studio del team di medici, del team di esperti, nominato dalla Cina per studiare il coronavirus. E secondo questo studio, il periodo di incubazione del coronavirus arriverebbe fino a 24 giorni. E anche se lo stesso studio precisa che sarebbero comunque pochissime le persone che manifestano i sintomi del coronavirus oltre le tre settimane, cioè dopo tre settimane di incubazione. Ma questo non ha molta importanza perché il punto è un altro. Per quanto possa essere una percentuale bassissima, questo però significa che è possibile che ci siano state delle persone tenute in quarantena per 14 giorni che possano avere sviluppato in seguito comunque il coronavirus. Mentre sempre da questo stesso studio emerge un altro dato, ovvero il periodo di incubazione medio, che prima era ritenuto, si riteneva fosse di poco più di cinque giorni. Invece, secondo questo studio, nella media il periodo di incubazione sarebbe di appena tre giorni. Questo ovviamente in media. Quindi da un periodo di incubazione medio di tre giorni fino a un massimo di 24 giorni. Inoltre uno studio pubblicato sulla rivista scientifica The Journal Hospital Infection indica che il coronavirus potrebbe sopravvivere fino a nove giorni su superfici come plastica, metallo e vetro. Va però precisato, a proposito di questo studio, che è stato condotto su un tipo di coronavirus diverso dal coronavirus cinese, dal coronavirus apparso in Cina. Però, come avevo anticipato qualche giorno fa, secondo invece uno studio cinese, quello sì fatto sul coronavirus cinese, indica che in determinate situazioni il coronavirus potrebbe sopravvivere fino a cinque giorni su questo tipo di superfici. Ma torniamo ai numeri falsi diffusi dalla Cina. Che i numeri sono falsi lo si vede dai dati ufficiali. Pensate che oggi, in un solo giorno, i contagiati in Cina sono aumentati di 15.100 unità. Sono passati dai 44.700 casi di ieri ai 59.800 casi di oggi. È un numero impressionante, ma questo è successo semplicemente perché le autorità dell'Hubei, che è l'epicentro dell'epidemia, hanno semplicemente deciso di utilizzare un nuovo sistema di classificazione della diagnosi. Ecco, questa è la mappa di oggi e, come vedete, il numero totale dei contagiati confermati sono 60.349. Se poi guardiamo qui in basso, adesso lo vedremo meglio, c'è il grafico in giallo, c'è il grafico della Cina. Guardate come si è impennato oggi il grafico. Ecco, questo è il grafico dell'aumento giornaliero. Guardate, dal 20 di gennaio, oggi è il 13 di febbraio, guardate il picco di aumenti di oggi. Ecco, questo invece è l'andamento grafico e, come potete vedere, per quanto riguarda la Cina c'è un'impennata incredibile e, come detto, i casi sono passati da 44.700 a 59.800 da ieri a oggi. La cosa ha fatto andare su tutte le furie il virologo Burioni, che, come tanti suoi colleghi, come tanti esperti, ha sempre espresso delle opinioni basandosi su cosa? Basandosi sui dati ufficiali. Da questo momento non commento più i dati ufficiali cinesi. Prendano in giro il mondo, ma non me. Non si può fare così. O erano numeri inaffidabili ieri? O lo sono oggi? O lo sono ieri e oggi? Certo, se la cosa non fosse seria, ci sarebbe veramente da ridere. Questa volta, chi è che ha diffuso le fake news? E chi è che ha preso queste fake news per buone? E non solo. Chi è che poi, basandosi su queste fake news, ha espresso dei pareri medici, delle opinioni? E non solo? Poi le ha diffusi attraverso i social, i media, i quotidiani e quant'altro? Comunque, la giustificazione, tanto ufficiale quanto inverosimile, è che la Cina, dopo le critiche, cosa ha fatto? Avrebbe reinserito nel computo dei contagiati le persone positive al test, ma asintomatiche. Però è ovvio che questo non basta a giustificare un simile sbalzo in alto, questo aumento di 15.100 contagiati. Non basta, non ci vuole nemmeno un pallottoliere per capire questo. Ma andiamo avanti, perché il direttore dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive degli Stati Uniti ha spiegato che il nuovo coronavirus 2019 si sta evolvendo e che la sua adattabilità e contagiosità appaiono rafforzate. I numeri dell'epidemia continuano a crescere. È evidente che non c'è alcun rallentamento. Anzi, la diffusione è ancora molto forte. Nonostante le eccezionali misure di isolamento adottate, abbiamo migliaia di nuovi casi ogni giorno. Mentre il direttore generale dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato. Un virus può creare più sconvolgimenti politici, economici e sociali di qualsiasi attacco terroristico. Il mondo si deve svegliare e considerare questo virus come il nemico numero uno. Insomma, chiaro il concetto, no? Il coronavirus è un pericolo mondiale e il mondo si deve svegliare. Certo, sarebbe stato meglio se anche l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si fosse svegliata un po' prima. Ci sono stati alcuni casi preoccupanti sulla diffusione del nuovo coronavirus 2019 da persone che non hanno fatto viaggi in Cina. Infatti, come se non bastasse, crescono i casi di persone che contraggono il coronavirus ma non sono mai state in Cina e apparentemente non hanno mai avuto nessun contatto con persone infette. L'ultimo caso è in Giappone dove è deceduta purtroppo una donna di 80 anni che non era mai stata in Cina e che apparentemente non avrebbe avuto nessun contatto con persone infette e ovviamente le autorità mediche giapponesi stanno indagando su questo aspetto. Comunque il coronavirus continua a crescere inesorabilmente, continua anche ad espandersi. Pensate che in Vietnam hanno messo in quarantena, hanno chiuso praticamente una piccola cittadina, di ben 10.000 abitanti, mentre sulla nave da crociera ormeggiata a largo delle coste giapponesi il numero dei contagiati cresce inesorabilmente e sono arrivate le persone contagiate a bordo a 218. Inoltre tra poco scoppierà la bomba africana perché a causa della massiccia presenza cinese sul territorio è ragionevole pensare che vi siano già dei casi di coronavirus. Infatti la domanda, uno si fa la domanda, io me la sono fatta, dico ma com'è possibile che in Africa, proprio in Africa, ufficialmente non ci sia neanche un caso di coronavirus? La realtà è che purtroppo molto probabilmente questi casi ci sono, è che nessuno può dimostrarlo perché in Africa ci sono soltanto, in tutta l'Africa, soltanto due centri in grado di effettuare il test del coronavirus. C'è un'emergenza perché se nessun paese africano è al momento tra quelli con individui infetti da coronavirus non è perché nessuno è infetto ma perché quasi nessuno può rilevarlo nel continente africano. Vista l'evoluzione del fenomeno credo che i paesi africani faticheranno a contenere la diffusione del virus come avviene nei paesi occidentali. Stesso il ragionamento si potrebbe fare per alcune zone del Sud America. Ma qui da noi i porti restano aperti, restano spalancati, mentre le teste dei nostri politici appaiono sempre più chiuse. Tanto il coronavirus cresce giorno dopo giorno così l'inadeguatezza dei nostri politici emerge giorno dopo giorno. Infine per concludere riguardo alla trasmissione via aerosol del coronavirus c'è stata una parziale marcia indietro da parte della Cina che non ha negato la possibilità di questa trasmissione però ha detto che al momento non ci sono prove in tal senso. Un saluto dal vostro Matteo Di Micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio.